librando libri in volo con dante cerati sono i poveri intesi come un vero e proprio soggetto collettivo dotato di una cultura popolare e immerso in un determinato scenario storico al centro del pensiero di padre teio teologo e pastore di origine argentina enrique bianchi nel suo libro per emi editore introduzione alla teologia del popolo profilo spirituale teologico di raffael teio racconta la storia di quest'uomo di chiesa che durante la sua vita ha scelto di testimoniare una chiesa caritatevole e fedele a cristo e una teologia al servizio dell'evangelizzazione un cordiale saluto agli ascoltatori da dante cerati benvenuti a questa nuova puntata di librando via skype direttamente da buenos aires abbiamo l'autore del libro enrique bianchi che saluto e ringrazio per la sua disponibilità hola enrique bienvenido buongiorno grazie a tutti per avermi chiamato e per l'interesse nel mio lavoro la struttura del tuo libro come dichiare fin dal principio è a spirale e nasce da una seconda versione della tua tesi di laurea in teologia dogmatica come mai hai scelto di rivedere la tua tesi di laurea e di raccontare ai lettori la storia di padre teio quello che ha fatto realmente padre teio è stato offrire un pensiero teologico sulla fede vissuta dal popolo latino americano com'è la fede e come viene vissuta dai poveri è un tema che mi ha sempre interessato da quando studiavo al seminario mi ha sempre affascinato il lavoro pastorale verso i poveri l'atteggiamento della fede in questa prospettiva il lavoro pastorale ha cominciato ad interessarmi per alcune riflessioni teologiche il pensiero di padre teio mi ha molto interessato e mi molto servito malgrado all'inizio dello studio c'era un po di diffidenza poi invece mi ha impressionato e entusiasmato molto l'idea quindi ho deciso di fare la tesi sul suo pensiero padre teio come ci racconti testimonia una chiesa dei poveri e per i poveri come mai nonostante il suo messaggio di grande rilievo non è molto conosciuto sono ragioni storiche complesse vergoglio il giorno in cui presentò il mio libro disse padre teio come tutti i profeti fu incompreso fa parte della vita di un profeta essere incompreso ebbe problemi con le autorità ecclesiastiche per questo decise di ritirarsi e rimanere in silenzio però non smise di lavorare continuò a lavorare però con un gruppo molto ridotto di sacerdoti che stavano in contatto diretto con il popolo umile rimase per molto tempo nascosto per due ragioni principali la prima è che gli piaceva rimanere dietro le quinte e non gli piaceva la pubblicità la seconda ragione è che alcune parti della chiesa lo guardavano con diffidenza e per questo era sconosciuto poi recentemente dopo la sua morte nell'anno 2012 si cominciò a conoscere di più il suo pensiero che ruolo hanno avuto nella presentazione del pensiero di padre teio marcello gonzalez victor fernandez e omar albado il loro lavoro fu molto importante per me perché furono i primi a nominarlo in ambito accademico quando era in vita padre teio era praticamente sconosciuto e c'era molta diffidenza verso di lui dopo la sua morte cominciarono ad apparire brevi articoli di questi tre teologi e per me fu un segno che la proscrizione tacita che c'era era terminata questo mi incentivò a fare la tesi di fatto questi tre teologi furono tre professori che esaminarono le tesi di padre teio victor fernandez che oggi è rettore dell'università cattolica argentina fu colui che mi indirizzò verso la tesi era un momento in cui non ero ancora convinto che una tesi sul pensiero di padre teio sarebbe stata accettata nell'ambito accademico ma il lavoro di fernandez mi convinse invece a farla papa francesco con un bel padre teio all'età di 17 anni qual è il rapporto che si instaurò fra i due e che valore ha per francesco l'opera che padre teio ha portato avanti in america latina è una domanda interessante non saprei dire quale fu la relazione tra papa francesco e padre teio negli anni 60 e 70 da un lato bergoglio era un giovane gesuita e teio era un conosciuto protagonista della vita pastorale della chiesa argentina teio insieme a dei periti di una commissione episcopale voleva dedicarsi a riformare la chiesa in argentina e fu molto protagonista fino agli anni 78 e 79 quando si ritirò di questa epoca non ho testimonianza di che relazione avevano e che influenza avevano l'uno sull'altro sicuramente si conoscevano quello che so per certo è che dall'anno 1992 bergoglio cominciò a lavorare molto con i sacerdoti che vivevano nelle strade tra la gente e in questo lavoro pastorale si vede sicuramente l'influenza di teio infatti il tema di una chiesa vicino ai poveri che vive condivide con loro questa idea di teio e di altri membri della commissione episcopale come padre lucio era ha influenzato molto i sacerdoti di buenos aires che lavoravano in strada e bergoglio lavorando con loro e andando con loro ha preso questa visione di aver cura del popolo povero cosa che si fonde in alcuni aspetti sulla teologia di padre teio padre teio durante la sua vita parla di una teologia a servizio dell'evangelizzazione e si interfaccia spesso anche con i giovani quali sono gli insegnamenti che padre teio ha trasmesso alle nuove generazioni secondo te padre teio lavorò molto con i giovani e fu ideatore del pellegrinaggio giovanile al santuario mariano di lujan ancora oggi molto popolare si può parlare di un milione di persone che vanno ogni volta di cui molti giovani camminano tutta la notte per arrivare a lujan che dista 70 chilometri da buenos aires lavorò molto nel movimento giovanile di quest'epoca e trasmise una vocazione mistica per la missione passione per la missione quello che sottolineava e che sottolinea anche bergoglio è che l'identità più profonda della chiesa è evangelizzare e l'annuncio della morte sacrificale di dio è la missione essenziale della chiesa si può dire che bergoglio lo propone come sua chiave della riforma missionaria rivedere tutta la struttura ecclesiale per vedere se sta al servizio dell'evangelizzazione questa mistica unione tra l'essere umano e dio per la missione e dell'evangelizzazione è ciò che teio trasmetteva permanentemente ai giovani ed è ciò che dovremmo fare nostro per fare la conversione pastorale che ci chiede papa francesco che rapporto c'è e si instaura tra fede e cultura e come si manifesta questo rapporto in america latina e in particolare in argentina questa domanda tocca il nucleo del lavoro del mio libro il libro è soprattutto una riflessione sulla virtù teologica della fede tale come si è incarnata culturalmente in america latina per questo è importante comprendere questo concetto e cioè che la fede si vive culturalmente la fede nell'aria o in astratto non esiste esiste nel soggetto che crede la persona che crede e ogni persona nel suo ceto sociale sempre si vive la fede secondo la cultura nel nostro ambiente l'atto della fede da una parte un dono divino una grazia ma dall'altra parte un atto libero che si esprime secondo la propria forma culturale per questo non si può dire che il cristianesimo è monoculturale qui abbiamo sofferto e continuiamo a soffrire per l'idea di dover propagare un cristianesimo europeo come dice anche il papa con una visione eurocentrista che pretende che sia vissuto allo stesso modo in maniera centrista in tutti i continenti invece no il cristianesimo ha tante facce quante sono le culture in cui si è incarnato anche il papa riprende questo concetto nell'evangelii gaudium credo sia il numero 115 come diceva padre teio che la grazia suppone la cultura la grazia suppone la naturalezza e la naturalezza umana esiste sempre incarnata nella cultura quindi la grazia suppone la cultura in america latina in cui questi cinque secoli di storia è apparso una cultura nuova è apparso anche un nuovo volto del cristianesimo questo è quello che spiegava teio e quello che ripete anche bergoglio nell'introduzione che fa per presentare il mio libro enrique cosa significava per padre teio essere tumista per teio il tumismo era un grande sistema di pensiero cristiano era una persona non so se dire molto sistematica e quindi aveva cercato una spiegazione per tutto necessitava di categorie un modo di pensare che secondo me prende da santo thomas interiorizzò il pensiero di santo thomas e lo usò come una struttura per esprimere la sua visione del cristianesimo latino americano sicuramente era un teologo non gli importava essere una teologia o una scuola voleva capire cosa vuole dio per l'america latina in che cammino dio sta portando l'america latina voleva capirlo e cercare di spiegarlo tramite le parole secondo te enrique qual è il messaggio più bello che padre teio lascia chi crede è difficile scegliere un solo aspetto di quello che ha insegnato a me e di quello che voleva insegnare ci sono varie cose una cosa di cui ancora non abbiamo parlato durante l'intervista e che invece è molto vicina anche al pensiero di bergoglio è la preferenza divina per il povero dio preferisce i poveri i poveri hanno un posto privilegiato nel suo cuore e questo dovrebbe avere molte conseguenze teologiche ed ecclesiali che non si sono ancora concretizzate padre teio espose radicalmente la sua preferenza divina per i poveri e credo che anche papa bergoglio non so se influenzato da padre teio o dalla stessa tradizione della chiesa o ancora dalla sua tradizione gesuita accentui questa centralità del povero nel piano della salvezza il povero ha un posto speciale nella salvezza cristo fa proprio la nostra sofferenza però non tutte ad esempio non si ammala ma assume fa propria la povertà la povertà non è la più grande sofferenza che tocca il genere umano ma una categoria teologica centrale da dove dio dà la salvezza teio sentiva molto questo punto a volte in questa società in cui si tende invece a disprezzare i poveri in cui anche i cristiani ci insegnano disprezzarli a renderli invisibili a stigmatizzarli spesso non viene apprezzato il pensiero di padre teio che invece pone i poveri al primo posto per la salvezza e con questa domanda termina la nostra bella intervista enrique bianchi enrique veramente grazie di cuore e ricordo naturalmente ai nostri ascoltatori il tuo libro introduzione alla teologia del popolo profilo spirituale e teologico di raffaele teio per è il mio editore muchas grazie a Enrique e hasta luego grazie a ti e un abrazo molto grande per tutti gli aspetti Grazie.